Vallo ringrazio, ringrazio insomma per quello che è stato, che ha scritto pagine importantissime, anche memorabili con la Juventus, quindi è ricordato dall'ambiente juventino, dai tifosi in maniera esemplare, c'è una generazione che le adora completamente, quindi non solo quello che ha fatto poi nella Juventus, ma quello che ha fatto in nazionale, quello che rappresenta anche adesso, significa che in maniera diversa nel corso degli anni ha sempre primeggiato, sono felice che le sue parole siano queste nei miei confronti, ci siamo salutati all'inizio gara, però era molto indaffarato giustamente a fare gli onori di casa, ha fatto i complimenti e ci siamo salutati insomma, Sì sì è vero, è stato molto carino da parte sua a chiamare i due capitani, penso non l'ha fatto a caro, ma non perché c'ero io o l'altra persona, perché rappresentavamo in quel momento le due squadre, quindi è stato carino da parte sua, è stato sicuramente un momento emozionante. Questa è l'evaluta.